Professor Favia, un traguardo importantissimo per la sua clinica e per tutta la Puglia, perché è il primo ambulatorio di pedodonzia, di ortodonzia, che cura anche pazienti con malattie particolarmente rari, difficili, su cui è difficile intervenire normalmente. Sì, è la prima struttura che è stata creata appositamente con questo scopo, ed è stata creata grazie all'impegno della Direzione Generale del Policlinico, che si è molto dedicata a questo. La struttura consiste in quattro unità indipendenti per la diagnosi e la terapia ed è collegata in rete con tutto il sistema di gestione regionale delle malattie rare, anche interregionale, perché nelle regioni vicine mancano le competenze per gestire i pazienti affetti da queste malattie, che sono pazienti molto complessi e che hanno molto bisogno di un'assistenza specialistica. Ci puoi fare qualche esempio di persone che curerete nel vostro ambulatorio? Per esempio, tra le malattie rare, le più frequenti che osserviamo sono quelle che portano, le craniosinostosi che portano a difficoltoso sviluppo delle strutture del cranio, della faccia, e quindi l'osso non cresce in maniera normale, quindi va aiutato con delle apparecchiature di tipo ortoniatico e ortopedico. Per esempio, la prevenzione dei bambini che sono disabili, non riescono a compiere i movimenti, hanno problemi neurologici, quindi la prevenzione dentaria è una cosa importantissima, su cui molte altre regioni investono tantissimo, perché è una fonte di grossi risparmi futuri. L'accesso all'ambulatorio in che maniera avviene? L'accesso avviene e avverrà, secondo le modalità previste dal Policlinico, secondo un accesso al CUP, però orientato, quindi non il CUP generale, è un CUP dove già si prevede l'accesso ambulatorio o malattie rare, quindi una corsia preferenziale, diversa dall'accesso odontoiatrico generale. Personalmente che soddisfazione vive rispetto a un momento così importante? Senti, l'associazione è grossa anche perché ci è voluto molto tempo, perché tra le opere murarie, le ristrutturazioni, i problemi in corso d'opera, ci si è messo un tempo molto lungo, però devo dire la verità che alla fine valsa la pena all'attesa, perché è una struttura di cui andremo tutti fieri e orgogliosi per la sua bellezza e funzionalità. Il personale di questi tempi che scarseggia è tutto a posto e abbiamo risolto? Il personale è scarso, però anche loro hanno un tale entusiasmo nell'intraprendere questa ulteriore attività che non è venuto meno, anzi ha manifestato intenzione di fare dei turni aggiuntivi in più, anche pomeridiani per i bambini che vanno a scuola di mattina e quindi è necessario fare questo. Grazie a tutti!